Ciao Cecilia Lover, sono Ionella Ferro, ho 45 anni, sono una creativa, lavoro con le mani da quando ero piccola, mi piace tantissimo creare e soprattutto dare emozioni con le mie creazioni, con quello che creo. Nasco a Paternò, provincia di Catania, dopo il liceo artistico frequento delle botteghe di ceramica perché nella mia città c'è una grande cultura della pietra lavica ceramizzata e quindi oltre al liceo artistico comincio a fare la ceramista e la decoratrice e questo mi porta a scoprire il mondo della creatività e il mondo delle persone che amano l'arte. Sono cresciuta quindi a bottega, come nelle vecchie botteghe fiorentine di un tempo dove ognuno era un dono per l'altro, quindi ci si arricchiva conoscendo altri artigiani e tutti insieme siamo cresciuti. Poi per motivi d'amore mi sono sposata e sono venuta a vivere ad Alcamo, in provincia di Trapani e ho continuato, dopo tre figli, ho continuato a creare, creare con le mani. Mi piace moltissimo lavorare su tutto, dipingo su legno, tela, stoffa ma una cosa che mi piace tanto è portare la nostra tradizione siciliana che è la fede del santo patrono delle nostre città o della famiglia quindi mi piace moltissimo realizzare e dipingere immagini sacre perché da noi in Sicilia è molto sentita questo attaccamento, questa devozione al santo o alla Madonna o a Dio, insomma. Mi piace molto realizzare questo, un rapporto speciale con questo mondo sacro. Qui sto realizzando una Santa Lucia su una tavoletta di legno che poi sarà ancora da rifinire. Sto usando una tecnica di pittura con acrilici sul legno praticamente, sono colori acrilici a base di acqua. Il rosso che state vedendo qui nel vestito della Santa Lucia rappresenta il martirio quindi ogni santo bisogna rappresentarlo con una simbologia che racconti un po' la storia del santo in questo caso è rosso perché è una martire. E mi piacerebbe lavorare per te, realizzare per te il tuo santo patrono colui che senti vicino, colui che ti protegge, che protegge la tua famiglia come da noi in Sicilia. Noi ancora, anche se siamo nel 2021, questa tradizione è molto forte. Tutto quello che io realizzo è assolutamente fatto a mano e quindi ogni pezzo è unico, è irripetibile. Mi piace creare emozioni, creare oggetti artistici ma unici perché è tutto fatto con le mie mani perché comunque non si può... Le mie mani non sono una macchina quindi ogni pezzo che sarà realizzato e che realizzo non è mai uguale all'altro. Io sono nata a Paternò in provincia di Catania quindi nella Sicilia orientale ma adesso, dopo aver sposato mio marito vivo ad Alcamo in provincia di Trapani nella Sicilia occidentale. Riesco a legare le due parti della Sicilia, gli opposti quindi in me e nella mia famiglia vive tutta la Sicilia abbracciamo tutta la Sicilia, tutta la cultura siciliana. Questa è la mia Santa Lucia realizzata tutta a mano e io non vedo l'ora di realizzare per te un pezzo unico della mia Sicilia. Come vedi io sto dipingendo sul tessuto oltre che dipingere su altre superfici dipingo anche sul tessuto. Adesso sto realizzando per voi una collezione di magliette a tema siciliano tutte dipinte a mano per portare a voi la nostra sicilianità ma la sicilianità da indossare l'arte da indossare questa volta perché saranno pezzi unici e irripetibili ovviamente sempre con il cuore il cuore del Sicilio Lover che è poi il simbolo della nostra passione il nostro amore per l'arte per la Sicilia per tutto quello che rappresenta noi siciliani praticamente e portarlo a voi nel mondo. e adesso dopo tanto lavoro la maglietta è pronta ti piace? a me piace tantissimo spero che a te piacciono i miei lavori che sia un quadro che sia una pittura sul legno che sia una pittura sul maglietta o su altro aspetto te ok? ciao! ciao! Grazie a tutti